buonasera amici della riete devo ancora postare gli oroscopi mensili di gennaio 2022 lo so sono in ritardo non sono stata bene tra influenze e problemi vari purtroppo questa è un po la situazione e per fortuna avevo preparato sia gli oroscopi del mese di gennaio e sia quegli annuali e man mano insomma quando mi sento insomma bene man mano insomma ve li posto e se non vedete questo fine settimana non vedete gli oroscopi settimanali è perché non non li ho fatti quindi non mi sento allora partiamo quindi dal vostro oroscopo mensile a riete gennaio 2022 in questo mese vi dico subito che tenderete a fuggire a fuggire scusatemi e a espellere tutta quell'energia che avete in eccesso chiaramente stiamo parlando di energia negativa che è in eccesso e potrebbe accadere un qualcosa all'improvviso dove a un certo punto vi potrete vi potreste sottrarre una situazione magari che succede e voi fate dei passi indietro potreste anche magari arrivare al limite di una determinata situazione che può portarvi eventualmente a destabilizzarvi vediamo invece che cosa accade proprio durante il mese un riassunto di quello che è il mese allora cercherete di trovare una nuova stabilità magari potreste avere un incontro importante oppure potreste avere armonia comunque nella nella vostra vita ci saranno dei momenti comunque che saranno piacevoli oppure qualcuno di voi nell'eventualità si riappacificherà questo mese quindi per voi è un mese che potreste ottenere tutto quello che volete non riuscite a dare consigli e non riuscite neanche ad essere di aiuto a qualcuno perché appunto intorno a voi ci sono troppe cattiverie troppe malelingue troppe influenze negative che vanno quindi a rovinare il rapporto con chi vi chiede aiuto o il vostro rapporto magari di amicizia o il vostro rapporto sentimentale e va a rovinare anche quindi questa energia negativa di queste persone di queste malelingue di queste cattiverie che ci sono intorno vanno anche a rovinare quello che di bello state costruendo perché come vi ho detto comunque avrete stabilità in questo in questo mese quindi tutto questo può creare comunque un problema un dispiacere le carte vi invitano a un cambiamento a tagliare l'eccesso di negatività quindi a tagliare con a fare piazza pulita con quelle persone che non vi fanno star bene che vi stanno intorno e soprattutto con quelle persone che comunque vi parlano alle spalle perché c'è tantissima gente ok che avanti vi benedice insomma vi si congratula non so vi coccola e poi dietro oppure cerca di darvi dei consigli buoni e poi dietro invece vi taglia quindi a parte l'inizio la nuova stabilità quello che potreste insomma iniziare ad avere cercate di mantenere cercate di mantenere di andare avanti con i vostri progetti di andare avanti comunque con questa nuova stabilità con questo con questa armonia che magari avete accumulato e cercate di eliminare tutto ciò che è di negativo dalla dalla vostra vita ripeto comprese insomma queste persone che comunque non non vanno bene e avevamo iniziato già con gli oroscopi settimanali e io vado avanti e ci risentiamo penso di essere stata comunque soddisfacente insomma sapete sempre che nel mese di gennaio si cerca sempre di fare un sunto di quello che potrebbe essere cercherò di fare il possibile anche per quanto riguarda l'oroscopo settimanale se riesco altrimenti non me ne vogliate ma veramente un periodo insomma un po così ok vi ringrazio vi auguro un buon fine settimana presto buonasera amici del toro anche per voi l'oroscopo mensile di gennaio 2022 lo so sono in ritardo non sono stata bene influenza problemi vari e quant'altro e per fortuna avevo insomma tutto pronto così come ho detto agli amici della riete avevo tutto pronto avevo pronto inteso il gli oroscopi di gennaio vi informo non so se questa questo fine settimana riuscirò a postarvi gli oroscopi settimanali cercherò di fare il possibile ma nell'eventualità se non lo faccio non me ne vogliate perché ho bisogno comunque di prendermi degli spazi anche per per me intanto vi dico l'oroscopo mensile quindi gennaio 2022 per voi amici del toro allora vediamo un po questo mese vi sentirete molto inquieti è un mese dove dovete riposarvi dovete rilassarvi perché la vostra mente vi sta portando completamente da un'altra parte quindi su un'altra strada vi sentirete molto stressati e avete bisogno proprio di una lucidità mentale per affrontare comunque un periodo di agitazione è come se dei progetti restano fermi restassero fermi come se qualcosa magari rimanesse ancora bloccato e quindi avete bisogno di un periodo di pausa proprio per pensare bene al da farsi e uscire da una situazione che chiaramente andrete a vivere avete anche dei dubbi in amore e in questo mese potreste avere comunque qualche problema ma questi problemi potrebbero esserci più che altro nell'ambito lavorativo ci possono essere magari delle difficoltà da dover sopportare perché magari ecco si vengono a creare dei problemi o magari ci possono essere delle delle delusioni potreste avere anche un incontro un incontro che può creare dei conflitti dei litigi e ci possono anche essere delle delle pessime notizie delle pessime notizie dove non sono previsti dei chiarimenti anche se voi cercherete in tutti i modi di eventualmente chiarire parlarne e vedere un po purtroppo non non ci sarà nessun nessun chiarimento e come e come se non riuscite ad affrontare una certa situazione magari per colpa di un uomo che mette zizzania o per colpa di qualcuno che mette zizzania e però è semplicemente un breve periodo quello che chiaramente arriverà arriverà in un modo forte perché sarete un attimo allo sbando insomma sarete cioè veramente a livello mentale poi comunque mi potete confermare visto che siamo già al 15 ok quindi sarà veramente un momento molto molto forte molto veramente di stress di pensieri di preoccupazioni questo comunque certo vi può creare comunque dei conflitti nell'andarvi a confrontare magari lavorativamente parlando oppure nella vita di tutti i giorni nella vita familiare purtroppo è un mese dove se se vi andate se cercate di prendervi del tempo per voi andate a rilassare la mente riuscite comunque ad affrontare tutta una serie di comunque di problematiche che magari si possono presentare questo mese fatemi sapere e io vi posso dire che come inizio mese di gennaio vi posso confermare insomma ci sono delle delle ci sono state delle piccole problematiche che comunque sia si sono dovuti insomma ho dovuto chiaramente affrontare e sto finendo di affrontare quindi voi fatemi sapere la vostra visto che anch'io sono del segno del toro io vi ringrazio sono molto veloce lo so perché i disegni sono 12 quindi ho intenzione di farli tutti quanti stasera visto che almeno stasera mi sento un po' meglio e ripeto se riesco a fare l'oroscopo settimanale domani che mi sento meglio lo faccio tranquillamente altrimenti non me ne vogliate vi mando un bacio buon fine settimana a presto amici dei gemelli buonasera anche per voi l'oroscopo mensile gennaio 2022 non l'ho fatto prima perché non sono stata bene per fortuna li avevo preparati per tempo e non so se riuscirò a fare gli oroscopi settimanali domani non ho assolutamente idea perché non sto bene o mi sono ritagliata questo spazio di un attimo di energie mi sono sentita un po meglio insomma qua tra influenza e covid vi dico la verità non si sta capendo più niente però vabbè insomma l'importante che il peggio è passato e allora parto subito con il vostro oroscopo mensile e vi dico che in questo mese di gennaio 2022 c'è dell'energia negativa perché sono presenti delle menzogne degli inganni oppure potreste essere voi a comportarvi in questo modo nei confronti di chi vi sta vi sta accanto o di chi insomma trattate frequentate dovete valutare bene le scelte da fare perché potreste fare una scelta che sia eventualmente sbagliata lì dove c'è una situazione di conflitto sia al lavoro che in famiglia quindi le vostre scelte dovranno essere mirate a belle dure ok precise cioè dovete sapere perfettamente quello che volete proprio per evitare di creare danni ci possono essere o meglio potreste avere a che fare con litigi gelosia con degli inganni dovete stare appunto attenti a una figura in particolare falsa presente nella vostra vita una figura che sta agendo alle vostre spalle dove io ve la dico così magari è troppo dura quindi voi vedete in che situazione metterla potrebbe portarvi questa persona alla rovina sia nell'ambito quindi lavorativo economico e anche qua ecco potrebbe le cose potrebbero non andare bene quindi le carte chiedono assolutamente di prestare attenzione ripeto nell'ambito economico quindi a livello monetario e lavorativo a livello quindi due cose comunque differenti ci saranno questo mese comunque anche dei momenti positivi per chi è in coppia si può arrivare anche a una separazione per chi le cose già non stanno andando bene oppure per altri di voi ci possono essere delle delusioni su magari un comportamento su un qualcosa che non vi aspettavate quindi cercate di agire questo mese per voi dei gemelli di agire con molta attenzione e di ponderare bene il da farsi ripeto a quello che vi ho detto prima le scelte devono essere mirate precise proprio per evitare di creare danni ripeto se vedrete gli oroscopi settimanali ok quindi ci sono stata altrimenti scusatemi almeno per questa settimana cercherò di riprendermi il più velocemente possibile e poi nell'eventualità magari vi racconterò vi racconterò vi ringrazio vi mando un bacio e buon fine settimana presto buonasera amici del cancro e per voi l'oroscopo settimanale no scusatemi l'oroscopo mensile gennaio 2022 anche se in ritardo per fortuna lo avevo già preparato e in ritardo perché come sto comunicando agli altri segni non sono stata bene e ho dovuto completamente fermarmi sia per l'oroscopo mensile sia per gli oroscopi annuali che devo ancora finire di di postare non so se questo se questo fine settimana riuscirò a fare gli oroscopi settimanali e non mi sento ancora bene e vediamo un po insomma vediamo un po che cosa posso che cosa riesco a fare però non me ne vogliate se eventualmente non vedete l'oroscopo settimanale tutto qua allora parto subito con il vostro mese di gennaio per voi amici del cancro questo mese sono presenti ci sono stati o saranno presenti litigi incomprensioni in un certo qual modo diventate anche un po egoisti e per voi sarà l'ennesimo momento difficile ci sono troppe verità nascoste e ci sono degli accordi che avete preso ma che non avranno seguito e innanzitutto si parla di una donna in particolare c'è qualcosa che c'è qualcuno scusatemi che prova gelosia per voi che va a scatenare dei problemi sono dei problemi comunque transitori però comunque ci saranno e c'è troppa mancanza di chiarezza anche per chi avrà un incontro o per chi magari stabilirà il incontrare qualcuno insomma vi vedrete con qualcuno e sarà una persona magari nuova da dover incontrare è un qualcosa comunque che non andrà a buon fine dovete cercare di aprire gli occhi di guardare al futuro con attenzione perché comunque ricordatevi che il futuro dipende da voi occhio a come vi comportate e a quali saranno le vostre azioni perché alle volte queste discussioni questi litigi queste queste situazioni diciamo un po no spesso e volentieri come già vi avevo detto dipendono comunque da voi c'è un po di confusione c'è un po di confusione un po di confusione già perché c'è nell'aria e a maggior ragione ve la può creare proprio qualcuno magari un qualcuno che vi è vicino e che vi sta nascondendo qualcosa quindi ripeto prestate attenzione io vi ringrazio questo era gennaio in sintesi molto molto breve vi auguro un buon fine settimana e vediamo che cosa riusciamo a fare per l'oroscopo settimanale vi mando un bacio e a presto amici del leone buonasera e per voi l'oroscopo mensile gennaio 2022 scusate il ritardo ma sto informando che non sono stata bene e non so neanche se riuscirò a fare gli oroscopi settimanali mi dispiace però purtroppo lì dove non si sta bene non si hanno forze non si hanno energie sinceramente sfiderei chiunque insomma mettersi là e fare determinate cose e intanto vi posto il vostro oroscopo mensile e poi vediamo un po insomma come eventualmente fare allora per voi questo mese vivete in un'energia di blocco vorreste essere liberi di fare quello che volete di agire come meglio credete solo che dovete attendere ancora per dimostrare che siete delle persone affidabili quindi ancora non siete liberi di poter fare quello che volete di agire come volete voi perché magari da un altro lato ci sono persone che non non si fidano di voi e quindi avete bisogno eventualmente di dimostrare in questo mese troverete anche la vostra stabilità vivrete in un modo più armonioso con la possibilità per qualcuno qualcuno di voi di fare eventualmente un incontro importante se ci saranno eventualmente delle discussioni o piccoli litigi verranno comunque sia chiariti ci può essere per altri di voi una riappacificazione con qualcuno magari di vecchia data magari una donna o una situazione che eventualmente è rimasta in sospeso e che quindi va chiarita la chiarirete anche nel lavoro il momento comunque positivo potreste avere avuto da qualcuno un aiuto oppure sarete voi nell'eventualità aiuta ad aiutare ad aiutare qualcuno vi potreste allontanare da un membro della famiglia perché rimanete delusi magari di qualcosa e quindi cercherete di prendere le distanze e dovete portare semplicemente pazienza perché se c'è qualcosa no in questo mese comunque sia tutto passa quindi saranno delle cose comunque passeggere quindi non mi andrei a preoccupare assolutamente io vi ringrazio e ci sentiamo presto non appena possibile amici della vergine buonasera per voi l'oroscopo mensile di gennaio 2022 sono in ritardo come stavo spiegando agli altri segni perché mi sono fermata non sono stata bene e devo ancora postare l'oroscopo annuale per fortuna che insomma i mesi sono sono comunque tanti e però in più vi dico non so se riuscirò a a fare gli oroscopi settimanali questo fine settimana se mi sento meglio che ne ho la forza o l'energia giusta per poter riprendere le carte allora ok lo lo faccio questi erano tutti oroscopi che io avevo preparato che avevo detto un po alla volta vi avrei comunicato poi vabbè sono successe insomma delle cose tra influenza e covid situazioni un po così è normale che uno sinceramente pensa un po a risolvere altre cose scusatemi comunque vi dico subito insomma quello che è il vostro il vostro mese allora aspettatevi l'inganno da parte di qualcuno qualcuno che fa due facce con voi potreste magari essere intrappolati in in tranelli fatti proprio da da parte di un amico o da una persona da una persona che adulatore è una persona che vi non mi vengono addirittura le parole una persona che vi 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 apprezza vi fa i complimenti se nell'eventualità non avete ancora una persona quindi di questo di questo stampo che nella vostra vita potreste magari incontrare un uomo che ve la stravolge completamente però non in positivo e quindi vi può portare a farvi allontanare da amici da tutte quelle persone che chiaramente vi vogliono bene ve ne accorgerete e quindi proprio perché ve ne accorgerete dovete aprire dovete cercare in tutti i modi di aprire gli occhi ed essere in tempo ok ad allontanare poi dopo questa persona spesso e volentieri questo mese vi assalerà il dubbio l'incertezza a un certo punto saprete 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 bene di dover prendere una decisione però non sarete sicuri di dover prendere determinata decisione ci saranno comunque degli alti e bassi che si presenteranno e vi porteranno a rimanere delusi perché non vi aspettavate quello che chiaramente accade ci possono essere degli affari vantaggiosi però ma questi affari vi possono portare comunque a conflitti e litigi c'è una persona in particolare che vi darà dei consigli e vi indicherà la strada da dover prendere una persona che non riesce a manifestare l'affetto nei vostri confronti però per voi è un punto comunque fermo e lì invece dove si presenteranno dei conflitti dei litigi comunque ci sarà un chiarimento e quindi dopo il chiarimento si dovrà dare il via ai momenti positivi e soddisfacenti quindi si va per la rinascita e per la crescita anche economica occhio magari a chi vi vuole ingannare occhio a questa persona che vuol stravolgervi insomma la vita e a chi cerca eventualmente di portarvi su una direzione che magari non è non è la vostra io vi ringrazio vi auguro un buon fine settimana e se vedete i miei oroscopi ok ci sono altrimenti magari sarà per il prossimo grazie a voi un bacio e a presto